Vincenzo Accardo, Presidente dell'Associazione Marittimi per il Futuro, una convenzione per i marittimi per poter effettuare i corsi necessari a prezzi contenuti. Un grazie allo Star Center, al signor Raffaele Trapanese che abbiamo avuto dopo che è stato chiuso un paio di volte, hanno fatto dei corsi attare e hanno vinto e hanno riperto di nuovo questi benedetti corsi MAMS, Mabber che facevano i refresh e i corsi interi perché prima costavano fino a pochi giorni fa 2000 euro un corso intero di 4 giorni e 1000 euro per fare un refresh. A oggi, ringraziando allo Star Center, signor Raffaele Trapanese, a tutti gli iscritti dall'Associazione, per fare un corso intero del MAMS nuovo costa 400 euro e 200 euro per fare un refresh. Questi corsi sono molto importanti per i lavoratori del mare? Sono importantissimi perché il marittimi deve andare sulle navi, se non ha questi corsi fra poco il maritto non può imbarcare perché non può fare il giornamento. Fino a ieri ci stava chi aveva il monopolio a 2000 euro e a 1000 euro, oggi questo monopolio, ringraziando a Dio, è stato tolto e ringraziando anche al Tar che ha fatto la sua giustizia. Tutti quelli là che sono iscritti all'Associazione pagheranno 200 euro un refresh e 400 euro un corso intero. Poi, attenzione, noi si troveremo qualcuno, più poco del signor Raffaele Trapanese, sta assente e vuole mettere 150 euro e vuole fare 300 euro un corso intero, noi stiamo a disposizione, potremo fare tutte le convenzioni, non abbiamo niente a vedere con nessuno. Poi voglio dire un'altra cosa, la convenzione che ha fatto il Comune con l'IMAT, che è un altro centro, perché se no possiamo dire che noi sponsorizziamo qualcuno, non sponsorizziamo nessuno. Ringraziamo anche l'IMAT che ha fatto un accordo con il Comune come patrocino gratuito, che tutti quelli là che devono fare i corsi, i sei corsi base per imbarcare, pagheranno 270 euro. Io invito a tantissimi giorni di Torre del Greco, che è un momento particolare, potete andare a fare i corsi per i sei corsi base a 270 euro, è importantissimo. Potete passare anche dall'Associazione dove abbiamo noi i moduli, voi li iscrivete, li portate direttamente al Comune, ci sono compilati, e così loro li trasferiscono all'IMAT e farete dei corsi, sei corsi base a 270 euro.